Ciao a tutti, benvenuti su Opinioni a riguardo. Io sono Domenico e oggi vi porterò il secondo contenuto praticamente dopo quello di domenica, dopo il mio ritorno che mi vedeva assente da qualche mese a questa parte. Oggi il protagonista è Dampir, numero 270, Killer Hospital, eccolo qui, siamo comunque sia nel mese corrente, uscito a settembre, 98 pagine in bianco e nero per la solita cifra di 4,40 euro. Come sempre diamo un'occhiata alla scheda tecnica dell'albo, chiaramente personaggio creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, soggetto e sceneggiatura di Andrea Cavalletto, i disegni sono di Fabiano Ambu, copertina del solito Enea Riboldi, il lettering è affidato a Luca Corna. Passiamo subito dalla copertina di Enea Riboldi, chi mi conosce da tempo sa che non ho troppo a cuore le copertine di Enea Riboldi, non perché non sia un bravo artista, ma secondo me sul lucido fa abbastanza fatica. Per quanto riguarda questo albo, per quanto riguarda questa copertina, una copertina che mi è piaciuta, mi è piaciuta ragazzi, oggi infatti è brutto tempo dalle mie parti, una copertina che mi è piaciuta, più che altro nella parte dello sfondo con questo enorme complesso ospedaliero, con un teschio gigantesco che aleggia sui tetti di questo, come ho detto, ospedale enorme in disuso e praticamente mai operato. E sotto abbiamo i nostri tre personaggi che si recano appunto in questo complesso. Una copertina che tutto sommato non mi dispiace, mi piace molto lo sfondo, dove della verità, sono rimasto piacevolmente sorpreso quando appunto l'ho acquistato dall'edicola. Per quanto riguarda la storia, chiaramente non entrerò troppo nei dettagli, perché essendo ancora l'albo corrente, ho paura di spoilerare, c'è ancora gente che lo deve acquistare e ovviamente di conseguenza leggere, quindi cercherò di essere più... molto leggero a livello di trama. Una storia che la può leggere chiunque, non appartiene a uno di quegli albi che ogni tanto esce riguardanti la continuity non troppo serrata del Dampir. I nostri personaggi vengono contattati da un ex protagonista di Dampir, ovvero Ringo Ravitch, che insomma dipendente dalla storia fa o il nemico o l'amico, dipende dalla situazione. In questo caso è un amico perché tiene a salvare una ragazza che è scomparsa praticamente all'interno di questo complesso, una ragazza youtuber che insieme ai suoi amici andava appunto lì per fare dei gesti acrobatici con i vari skate e quindi metterli sul video e proporli su YouTube. Scompari improvvisamente e Ringo chiede appunto aiuto a Caleb e alla squadra di Arlan per cercare di trovare una soluzione anche perché aleggia su questo complesso una sorta di, non dico maledizione, ma voci dove all'interno ci siano dei mostri o dei non morti o dei vampiri. Insomma roba superstiziosa che in Russia, infatti ci troviamo in Russia, molto più precisamente a Tula, no neanche a Tula, ci troviamo a Hovrino, ecco qua questo complesso gigantesco, praticamente in Russia sono gente molto molto superstiziosa, chiaramente c'è un po' di sfiducia iniziale perché appunto di Ringo non ci si può troppo fidare, però insomma alla fine poi decidono di andare da una mano ed effettivamente aiutano Ringo nella situazione. Questo complesso gigantesco, fra l'altro realmente esistito e ultimamente abbattuto, praticamente c'era di tutto, c'era di tutto, a parte i mostri c'erano anche appunto questi youtubers che creavano dei video spettacolari, c'erano addirittura dei clan russi che utilizzavano i vari settori dell'ospedale come ufficio o come addirittura modo per liberarsi di determinate persone e non farle mai più trovare, insomma qui dentro c'era praticamente di tutto. Si recano in questo edificio e da qui insomma la storia si evolve e come ho detto non voglio assolutamente spoilerare più di tanto. La storia è leggibile, una storia leggibile, una storia interessante, una storia che comunque sia ti tiene incollato alle pagine e non vedi l'ora di andare avanti. È una storia molto molto fluibile, fortunatamente non è troppo prolissa, forse in alcuni punti ma ci sta perché forse ricordo a chi recensisce che crede che le solito non troppo prolisse, alla fine un po' di trama la devi anche mettere. Non possiamo vedere 98 pagine dove Arlan con la sua pistola spara chiunque, ci deve stare un minimo di trama dove un po' viene spiegata la situazione. In questo caso non è assolutamente prolisso, almeno per quanto riguarda i miei gusti. Il finale c'è una piccola sorpresa, sinceramente non ho ancora capito se è positiva o negativa, comunque sia un personaggio secondario uscito praticamente nella parte finale dell'albo fa e disfa la situazione, insomma ci mette lo zampino, ecco non aggiungo l'altro. Per quanto riguarda i disegni di Fabiano Ambu, disegni che non mi dispiacciono, devo dire la verità, molto molto scuri come ambientazioni, ci sta perché la situazione lo impone. L'unica cosa sono i primi piani che sinceramente su Dumpir io non riesco ancora a concepire, primi piani non troppo dettagliati ma oramai ci ho fatto il callo su Dumpir, non ci faccio neanche più caso. Come ho detto, una storia interessante, una storia che la consiglio a tutti quanti, è nulla, non fa parte della storia di Dumpir, non sarà la storia più in di tutte le storie, però comunque sia, è una storia che si difende ed è assolutamente leggibile. Beh ragazzi il mio video termina qui, mi auguro sia stato di vostro gradimento, noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao Leo!